La chiusura del mercato dell'Osteria delle Logge del Grano è una grave perdita per Arezzo. A sostenerlo la CGL con Alessandra Ricciarini è venuto a meno un progetto nel cuore di Arezzo che contribuiva a mantenerlo vivo, che valorizzava i prodotti e i produttori del territorio. Ma non dimentichiamo anche il valore sociale e occupazionale. Si cancellano dieci posti di lavoro. Le Logge del Grano in questi anni erano diventate anche un punto di inclusione al mondo del lavoro per alcune persone che altrimenti non avrebbero avuto delle opportunità. La gestione sia del mercato che dell'Osteria era affidata alla cooperativa sociale Margherita. Prosegue la nota di Alessandra Ricciarini. Al presidente dei produttori Tonioni abbiamo chiesto di verificare tutte le possibilità che possono scongiurare la chiusura della struttura. In subordine che tutti i dieci dipendenti abbiano la garanzia di essere riassorbiti. Siamo sconcertati che nessuno fino ad oggi si sia preoccupato di questo.